Buongiorno Friuli anche da parte della redazione sportiva, giovedì 27 aprile 2017, un piovoso giovedì che accompagnerà ancora l'Udinese verso Bologna, verso il prossimo turno di campionato, ma sono tante le tematiche che andremo ad affrontare un po' svariando per tutte le categorie e non solo del calcio, per quanto riguarda la nostra analisi che comincia come al solito dal messaggero Veneto che fa il punto un po' sui rinnovi e il nodo principale da sciogliere, questo è il titolo del messaggero, è quello di Felipe, Felipe in attesa di una chiamata per rinnovare, la società ha un'opzione che scade a metà giugno, il DS Bonato assicura si tratta di una semplice formalità ovviamente essendo anche una lunga storia e anche ritornata quella di Felipe si sa che quando c'è questa fiducia non c'è bisogno di affrettare i tempi anche se ovviamente le scadenze da rispettare sono poi quelle c'è qui proprio la sua storia in biancorero fatta di due tappe, una dal 2002 al 2010 poi in giro un po' per l'Italia e alla fine il ritorno nel 2015 adesso due stagioni da protagonista con rispettivamente 26-27 presenze un gol segnato in entrambi gli anni, fino ad allora il giocatore non potrà accettare, fino ad allora si intende ovviamente questa scadenza, non potrà accettare però un'offerta da altre squadre questo un po' va a vincolare Felipe, il suo desiderio è di terminare la carriera in Friuli dove tutto cominciò 14 anni fa quando arrivò praticamente bambino a giocare per l'Udinese dal suo Brasile staremo a vedere se ci sarà appunto la posizione di questa firma, sono anche tantissimi i prestiti, sono 24 pensate i prestiti, Meretta d'accordo fino al 2018 è il prestito più eccellente se vogliamo così dell'Udinese, contratto in scadenza giugno 2018 come quelli di altri tra cui Kef e Edenilson, alla spalla c'è anche Simone Pontisso nomi ben noti, qui c'è tutta la lista con ovviamente anche molti giocatori che come detto magari le squadre a cui sono andati non riscatteranno quindi torneranno all'Udinese come spesso accade di solito, i primissimi giorni di ritiro sono sempre composti da tanti giocatori poi starà la bravura della dirigenza piazzarli, venderli o mandarli in prestito blindati però nel frattempo i nomi che contano, i gioielli, Yancto, Samir e Fofana, tutti e tre sotto contratto fino al 2021 Zapata a Napoli tornerà per fine prestito, questa è la situazione dei nomi più gettonati anche De Paul la scorsa estate aveva filmato un quinquennale quindi anche per lui si parla di scadenza 2021 Faraoni, Evangelista ed Alfreson e Gabriel Silva a Udine fino al 2018 questo è un po' il viaggio in tutte le scadenze, c'è proprio tutta la rosa con i vari anni di scadenza spiccano ovviamente i 2021 dei nomi più forti che abbiamo letto in precedenza il 2017 di Zapata perché ovviamente da contratto il suo prestito biennale si esaurirà proprio al termine di questa stagione e farà rientro a Napoli salvo diverse indicazioni di mercato poi la trasferta, come detto, ci stiamo avvicinando a Bologna, non fa paura saranno 600 i tifosi al Dallara, nel settembre del 2015 due Pullman furono colpiti da una sassaiola ma il precedente non ha frenato l'entusiasmo degli appassionati bianconeri tutti i club effettueranno il viaggio in giornata, fatta eccezione per quello di Ragogna partenza sabato con visita guidata a Comacchio e Ferrara questo è ovviamente anche un po' la visita nella città che sta ospitando al momento proprio Meret e Pontisso sorride Donadoni, per domenica recupererà Verdi e non è una notizia da poco, soprattutto per Donadoni che ha una quasi straordinaria emergenza a centrocampo non male per l'Udinese perché mancherà soprattutto il faro Blairing e Miley per squalifica però in attacco vista l'assenza di Di Francesco, altro assente pesante ci sarà la possibilità di avvalersi su Simone Verdi frenato da un infortunio ma comunque uno dei più interessanti della stagione del Bologna poi le parole di Coombs ai saluti a fine anno tornerò al Watford il belga in patria ha spiegato la sua stagione no ho giocato fuori ruolo, questo è stato un po' il assunto delle sue dichiarazioni a quanto pare, a quanto ricostruito proprio da questa dichiarazione e proprio la sua volontà di cimentarsi con un nuovo campionato visto che comunque arriva in prestito dal Watford Angela Erto e Terò a parte oggi testi in famiglia con la primavera questo per quanto riguarda proprio l'Udinese seguiremo parte di questa amichevole all'interno di pomeriggio calcio per vedere quali saranno le indicazioni proprio relativamente a questa situazione poi c'è l'appuntamento con gol a grappoli sfida ai Fornelli, Pardo Serena sarà una sfida assolutamente interessante con proprio Pardo e Serena e Del Neri in giuria a Coombs l'appuntamento classico ormai con gol a grappoli c'è spazio anche per vedere un po' quello che sta succedendo oltre mani che a Inghilterra lo scandalo una maxi inchiesta per frode fiscale Premier nel caos i club coinvolti sono Chelsea, Newcastle e West Ham coinvolti nell'indaggio sono stati eseguiti arresti e perquisizioni anche in Francia quindi attenzione proprio a questo campanello d'allarme che suona nella Premier League e chissà insomma come si andrà ad evolvere anche questa situazione poi dei rapidi box con il campionato che inizia già domani con la Juventus in campo in un big match contro l'Atalanta ci sarà che dira titolare poi De Laurentiis su Higuain ha detto uomo di poca cultura tra l'altro nei giorni in cui viene pubblicizzato è molto uno speciale su Maradona che proprio parlerà a 360 gradi della sua vita lo slogan è stato io non tradisco relativamente a Napoli ovviamente riferimento a Higuain poi la FIFA che adesso accelera la VAR sarà presente ai mondiali 2018 questo ha detto proprio Gianni Infantino che a questo punto come detto comincia a pensare proprio a accelerare i tempi dell'inserimento della Video Assistant Referee poi la Coppa America l'Italia potrebbe essere invitata addirittura non è una butade ma il Comnebol il comitato organizzatore del massimo torneo del calcio sudamericano ha approvato l'allargamento a 16 squadre quindi nonostante si parli di Coppa America con le solite 10 nazionali ce ne saranno altre 6 in arrivo da Europa, Asia o America Centrale quindi la proposta ha avuto via libera vedremo se l'Italia si cimenterà in questa competizione che è assolutamente al di là del proprio continente ma ovviamente anche effetto dell'allargamento dei confini del calcio facciamo un piccolo break prima di continuare a parlare di calcio e di sport per sentire un po' come va il traffico cittadino a Udine lo facciamo con il Vice Ispettore Vittorio Tavernini buongiorno e buongiorno a tutti buongiorno condizioni del traffico attuale in città allora non abbiamo segnalazioni particolari il traffico comunque normalmente intenso a quest'ora visto anche il tempo e quindi il numero di macchine appare di buona consistenza però non ci sono segnalazioni particolari per fortuna non ci sono particolari indicazioni soltanto l'abbondante pioggia ma come al solito ben gestita dal traffico cittadino qui vediamo alcune immagini quindi ovviamente un maggior numero di macchine anche che si metteranno in marcia ringraziamo il Vice Ispettore Vittorio Tavernini per questo ragguaglio questa pioggia ormai che sta da qualche giorno cadendo e vedremo poi anche con gli amici dello Smerarpa quelle che saranno le previsioni magari speranzose di un fine settimana leggermente più meno piovoso già basterebbe questo magari più caldo soprattutto per i nostri tifosi che dovranno fare la trasferta in quella di Bologna e magari godersi una buona giornata torniamo sulle pagine del messaggero Veneto per continuare a parlare di calcio e della Kermess del torneo delle nazioni che vede insomma un sorriso e un broncio quello delle ragazze è un sorriso lacrime invece per i ragazzi nel torneo delle nazioni l'Under 16 femminile vince e si qualifica già eliminati invece gli Under 15 dopo l'1-1 con il Giappone che abbiamo seguito ieri in diretta nel giro degli azzurrini il Portogallo ha rifilato un sonoro 6-0 agli Emirati Arabi le altre partite sono finite 2-0 per l'Austria sulla Malesia e 1-0 per il Messico sulla Croazia questo per quanto concerne anche il torneo delle nazioni oggi alle 11 ci sarà Italia Emirati Arabi Uniti per sospingere almeno i ragazzi verso questa vittoria che sarebbe assolutamente d'obbligo per non chiudere senza vittorie questo torneo sguardo al futuro per quanto riguarda la GSA Weidemann ritorna a casa ci vediamo presto questo è comunque l'annuncio tra le righe poi vedremo cosa succederà lui vuole tornare questa è già una speranza molto buona lo straniero che ha cambiato l'Apu è partito ieri per l'Estonia ma vuole ritornare siamo una squadra tosta capace di ribaltare le partite tutti mi hanno aiutato e addirittura qui un accenno di sorriso cosa che sembrava essere impossibile per il solido e gelido Weidemann con Akafal e Stano Coy questa appunto la sua intervista si dà appuntamento con i tifosi di Udine la speranza è proprio questa la partita da ricordare la vittoria a Treviso contro una grande squadra in un palasport grande davanti a tutti quei nostri tifosi in delirio e chissà che rimanendo l'anno prossimo non potrà cimentarsi al Carnera dove i tifosi saranno sicuramente di più rispetto a quanto abbiamo visti al sempre eccellente Palalongobardo di Cividale i suoi numeri sono assolutamente eloquenti in sette partite di impatto è stato devastante è bastato davvero poco bastava andarlo a vedere cinque minuti sul parquet per vedere la sua grande differenza lui in sette partite praticamente ha messo a segno di media 24 punti questo un po' ci fa capire già solo come primo dato quanto ha inciso Ryan Weidemann su questa squadra quindi la speranza di tutti come abbiamo sentito anche ieri nell'intervista di Lardo tanto per cominciare è proprio quella di rivederlo qui nel prossimo anno per continuare a sognare in grande Evandro e Balic non trovano spazio questo dice il gazzettino del Neri non sembra intenzionato ad impiegarli vediamo almeno il beneficio del dubbio anche se qui si va più sul diretto il croato destinato a cambiare aria forse vorrebbe esserci un progetto di farlo finire in serie B per crescere questo ci dice il gazzettino con la voce come al solito puntuale precisa di Guido Gomirato altra voce di mercato più che voce è arrivata anche dal diretto interessato il ritorno al Watford di Coombs in difesa si punta su Biraghi il belga ha detto a Udine ha trovato una situazione spiacevole per quanto riguarda ovviamente non la città che abbiamo visto Coombs aver particolarmente apprezzato e anche le zone limitrofe ma proprio a livello di scelte tattiche che sembrano averlo penalizzato poi c'è la rincorsa al decimo posto l'Udinese è sempre in agguato non molla la presa soprattutto sulla Sampdoria e attenzione domenica c'è proprio Torino Sampdoria perché il nono posto sembra difficilmente raggiungibile d'accordissimo visto che il Torino nelle ultime giornate sta praticamente correndo come sta facendo l'Udinese ma la Samp rallenta e chissà magari potrà perdere punti nello scontro diretto ricordiamo che poi c'è Udinese Sampdoria alla penultima giornata casalinga proprio contro la Samp in casa quindi bisogna assolutamente approfittare Armagol qui stiamo parlando ovviamente di Pordenone il 17 porta bene e ora battiamo la Feralpi il Bolmer ha detto bella sfida con Ferretti multa di 500 euro per i danni allo spogliatoio c'è anche una notizia per il Memorial Dino Spagnola l'Udinese premio correttezza delle furie abbiamo seguito anche ieri in differita la telecronaca la vittoria per 2 a 0 l'Udinese sul Padova comunque bravo bravi i ragazzi bianconeri con i gol di Variola e Julu a mettere in ghiaccio questa vittoria a bissare il successo anche dell'anno scorso e poi c'è stata anche la vittoria del 4 a 0 del Pordenone sul Tamai per il terzo posto proprio nella stessa competizione ci spostiamo ancora all'interno delle pagine sportive proprio parlando di Armagol messaggero veneto edizione di Pordenone lui si ferma non si ferma a quota 17 ha detto batto il record e vogliamo il bomber del Pordenone ha sempre fame di gol ai playoff voglio arrivare fino in fondo intanto cambia la classifica penalizzata di due punti la maceratese di uno l'Ancona continuano insomma le penalizzazioni a cambiare il volto della classifica del girone B di Lega Pro poi c'è il Garda in città con la Feralpi Genegnocchi critica il Parma queste un po' le notizie che riguardano le squadre del girone tra cui la Feralpi prossima avversaria del Pordenone lavoro a parte per tre pilastri poi ci sarà un'iniziativa che porterà anche i ramarri a scuola intanto però si segue con attenzione chi potrà recuperare si parla comunque di nessuna allarme semplice precauzione anche perché tra questi nomi c'è proprio Armà che si è allenato a parte con anche Berrettoni e Suchu però comunque in ogni caso non sembrano esserci particolari problemi per questi giocatori che dovrebbero esserci comunque nella sfida molto importante che sarà proprio quella contro la Feralpi perché si può continuare ad approfittare di un Parma che non viaggia benissimo ecco qui tra l'altro un nuovo trionfo il Venezia vince pure la Coppa Italia Piancavallo ha portato bene questo viene scritto nell'articolo Venezia che ha ribaltato l'1-0 del Matera nella finale di ritorno e adesso Inzaghi può anche sognare il triplete perché no perché dovesse vincere anche la Supercoppa ci sarebbe sicuramente la possibilità di chiudere questo storico triplete andiamo a rivivere le emozioni della vittoria del Venezia appunto come vedete rimonta 3-1 sul Matera come al solito grande prestazione dei ragazzi di Inzaghi sentiamo anche poi al termine della sintesi quelle che sono state le sue parole su questo gruppo e su una splendida stagione è andato giù Casoli non è intervenuto il direttore di gara alla ripartenza di Garofalo quindi Ferrari che mette dentro Moreo il vantaggio del Venezia al 27esimo minuto scoccato da pochi secondi Venezia 1 Matera 0 pallone servito in area per Fabiano il sinistro in diagonale il raddoppio del Venezia Venezia 2 Matera 0 due gol in contropiede per la squadra di Pippo Inzaghi e ci sono ancora le proteste di Auteri che chiedeva al direttore di gara una posizione di fuorigioco e guarda devo dire si chiude la difesa del Venezia Garofalo sbaglia il rilancio non è andato incontro Ferrari strambelli dalla distanza che gol spettacolare il gol del Matera in inferiorità numerica Venezia che è in vantaggio ma a questo punto cambia la situazione per quanto riguarda l'assegnazione della Coppa che torna per il momento nelle mani del Matera grandissimo gol da parte dei strambelli il pallone che entra in rete il tocco decisivo di Ferrari il tocco è decisivo di Ferrari ma ci sono da parte dei difensori delle marcature molto larghe non hanno né marcato la palla né marcato l'uomo e di fatti vedi sia lui che Moreo sono in grado di poter colpire sono a 13 punti sulla seconda in un girone anche a 13 punti dal Parma dal Padova un depur delone incredibile quello che ha fatto questa squadra veramente mi sorprende ogni giorno io so come lavoro ma sono contento però che si tolga qualche soddisfazione insomma perché mantenere sempre alta la concentrazione lottare su ogni palla oggi era una partita complicatissima avevano perso la 1-0 loro si giocavano la stagione perché erano partiti per vincere il campionato e la Coppa Italia era l'unico obiettivo insomma in questo momento dove avevano fatto turn over e dove puntavano per cui era un'ottima squadra queste le parole di Inzaghi che quindi bissa la vittoria in campionato con quella della Coppa Italia adesso si cimenterà con la Supercoppa per chiudere il tripleto è stato accostato all'Udinese finisce in prima pagina proprio della gazzetta Cassano Boom riecco Fantantonio nessuno come me tra due mesi torno e vedrete Messi è il top Amherst Ludighez Pogba e Balotelli sopravvalutati Totti non lasci ho detto quattro volte no alla Juve perché sono pazzo per l'Inter e vorrei Pepo Spalletti la sua squadra ideale è assolutamente meravigliosa fatta di tanti talenti lì davanti Zidane Totti Ronaldo e Cassano ovviamente si autoinserisce Antonio Cassano l'allenatore sarebbe Prandelli questo nell'intervista di Filippo Di Chiara come al solito un personaggio che lascia poco spazio alle mezze parole alle mezze verità dice tutto quello che pensa soprattutto adesso che non è sotto contratto con nessuna squadra quindi è abbastanza libero di poter dire ciò che vuole poi in taglio alto Schick perché il nuovo attaccante della Sampdoria è una superasta Inter in pole ma la Juve puntini puntini tra l'altro Sampdoria che lavora per alzare la clausola a 40 milioni poi ora Aubameyang è tentato dal PSG Milan su Morata offertona per la punta del Dortmund e si scalda la pista per l'ex Bianconero ancora le altre notizie il tennis Stoccarda Sharapova rientro vincente dopo la squalifica e le polemiche battuta la Vinci 7-5-6-3 sono tornata una bambina e dopo la brutta storia per la positività al doping al Meldonium un buon rientro per la Sharapova non può che farci piacere festa Messi al Camp Nou due gol nel 7-1 all'Osasunia ma in real ha vinto 6-2 quindi la corsa rimane accesissima Gianni Infantino sempre lui la moviola al mondiale c'è l'annuncio la VAR in Russia nel 2018 poi tutte le sfide di Montali con la Ryder Cup il golf conquisterà l'Italia si parla ovviamente di questo straordinario evento planetario che sbarcherà a Roma tra tantissimi costi ci sono state molte polemiche ma anche tra quelli che saranno immaginiamo altrettanti benefici velocemente le altre prime pagine di Corriere dello Sport quotidiano di Roma il più bravo e allegri una giuria di esperti vota il tecnico migliore Max è davanti a tutti poi ci sono Conte Ancelotti Simeone e Mourinho quindi applausi a Max Allegri taglio alto Montella vuole Dzeko che ovviamente si prepara a una rivoluzione della proprietà cinese grande obiettivo proprio l'attaccante bosniaco anche se difficile i nuovi guai dell'Inter si chiamano difesa e Gagliardini i numeri della crisi nera-azzurra analizzati dal Corriere poi ancora bentornata Sharapova è uno show da regina dopo un'assenza di più di un anno batte la Vinci 7-5 6-3 poi motori perché Rossi può vincere il decimo titolo e perché Sochi è già il crocevia della Ferrari praticamente all'alba della stagione del Circus della Formula 1 tutto sport parla contro un po' le avversarie della Juve citando Andreotti vincere logo a chi non lo fa Atalanta-Monaco derby Juve col sorriso verso i 12 giorni decisivi consigli di Pastorello riguardano anche Alex Meret Lemar e Meret sono tipi da Juve nel frattempo chiama James Rodriguez anche Barzagli che ha detto Vidale e Pogba sono andati via per vincere la Champions e ora rischiamo di farlo noi senza di loro ovviamente un'analisi che può starci si parla poi di Ferrari del Clotone però di proprietà del Sassuolo potrebbe arrivare al Torino addirittura insieme a Falcinelli pacchetto che sarebbe interessante per il Toro poi Inter per ora da Scudetto c'è soltanto il pubblico un'altra vittoria importante ne approfondiremmo magari nel corso del TG questa sera Travecchio che lancia Sarri un futuro da CT per lui lo ha detto a margine della vittoria del premio Bearzot la settima edizione e poi Maria Sciarapo va in ritorno e a spese della Vinci che abbassa la testa di fronte alla grandezza della regina del tennis è tutto per la segna stampa sportiva noi torneremo a breve con i nostri approfondimenti da Borgo Clots a Patria del Ramandolo ma anche ovviamente per sentire le previsioni del meteo e tutto il resto che c'è da sapere quindi rimanete con noi grazie a tutti